Benvenuti amici telespettatori in una nuova puntata di FWG Tech. Oggi parleremo di piccole attività o comunque attività e internet. Ci sentiamo dopo la sigla. FWG Tech. La tecnologia in tv. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Eccoci qui ben ritrovati in studio. Dicevamo oggi parleremo di internet, di social media, insomma di mondo digitale applicato alle aziende che vogliono stare proprio dentro a questo fantastico mondo un po' magari complicato ma che può servire per farsi pubblicità, per fare del marketing, per usare termini un po' più televisivi insomma per promuovere la propria micro o piccola attività ma ovviamente poi si può applicare il tutto anche a realtà più grandi. Sembra sempre appunto che da una parte usare i social network sia facilissimo, bassino smartphone, dall'altra parte sembra che fare le cose giuste sia complicato. Ci sono mille modi per farlo. La cosa importante è non dimenticarsi mai che se vogliamo farci conoscere il posto migliore e ovviamente internet. Certo internet è vastissimo. Ci sono i siti web, i motori di ricerca, i famosissimi ormai usati da tutti social network che anche lì ce ne sono tantissimi. Oggi ho chiamato un paio di persone che ci aiuteranno appunto a capire come si può stare su internet e aiutare la propria attività. Ma partiamo subito magari col primo ospite, Paolo Ambrosetti ha un'attività. Per prima cosa Paolo, in cosa consiste il tuo lavoro? Ciao Gabriele, io sono Paolo e questa che vedi? Il mio negozio, ma non solo un negozio fisico, ho anche un'attività online. Si può ovviamente acquistare i prodotti ma anche guardare, leggere ed ascoltare perché registra anche dei podcast, contenuti utili riguardanti il mondo della valigeria e della pelletteria. Quindi sei la persona giusta nel posto giusto, ho anche le attività del tuo tipo, quindi i negozi su internet possono avere grandi benefici. Quanto ha influito usare proprio internet e i canali digitali per ampliare i tuoi clienti per farti conoscere di più? Questa è una domanda davvero interessante. Quanto ha influito? Tantissimo. Io ho iniziato con l'e-commerce circa dieci anni fa, sono stato forse uno dei precursori dato che ho iniziato prestissimo ad affiancare oltre allo shop online anche delle pagine social, prima Facebook, successivamente Instagram ed ora TikTok e devo dirti che vendere online è un insieme di tutti questi grandi contenitori. Infatti spesso e volentieri i clienti arrivano o in maniera organica dal sito internet oppure strategicamente coinvolti dalle pagine social. Però se non si ha un sito e-commerce non si riesce, come si dice da noi a Varese e Lombardia, a quagliare, ad avere un po' di ciccia, non si riesce a vendere. Infatti tantissime volte dai canali social veniamo contattati nelle chat e quindi rimandare il cliente con un link al sito internet è molto più semplice per arrivare alla conclusione di una vendita, piuttosto che continuare la discussione nella chat mandando foto, video, per carità, anche quello funziona. Però avere un sito e-commerce è sicuramente la punta del nostro iceberg e quindi rimandare il cliente lì è la cosa migliore. Quindi coinvolgimento a 360 gradi. Diciamo che la multicanalità è in un negozio come il nostro che vende soprattutto articoli di borse e pelletteria la cosa migliore e più facile per vendere. Adesso nel 2022, anzi perdonami, nel 2023. Eh, lo so, lo so, ti seguo sui tuoi canali digitali. La cosa che dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori è che ovviamente più c'è lavoro su internet, più i clienti si possono ampliare, ma per tutte le attività. Nei ristoranti, ai negozi come quello di Paolo, a un professionista che può essere di qualsiasi settore, a un'azienda che fabbrica qualcosa, ma anche qui c'è da capire che bisogna impegnarsi e può portare via del tempo, che non è tempo sprecato, è tempo investito. Tu Paolo, quanto tempo e quanto lavoro dedichi ad esempio alla presenza sui social network? Quanto tempo dedico ai social? Tantissimo. E anche all'e-commerce. Infatti io mi sveglio prestissimo al mattino, alle 6, 6.30 sono già in negozio, perché creo i contenuti che metterò sul nostro shop online e sulle pagine social, principalmente Instagram, Facebook e TikTok, anche se non disdegno Pinterest e YouTube, perché a negozio aperto, quindi dalle 9.30 del mattino, è molto difficile creare contenuti online. La nostra attenzione deve andare al cliente che fisicamente entra in negozio e a me, dal punto di vista estetico, non mi piace molto farmi trovare col telefono davanti. È una mancanza di rispetto. Quindi, nei momenti morti del negozio, cerco comunque di creare qualche contenuto come foto, video, ma soprattutto rispondere in maniera veloce al cliente che ci contatta nelle chat di Facebook, Whatsapp e Instagram. Infatti, essere veloci nella risposta è una cosa fondamentale nel nostro lavoro, perché se tu ritardi anche pochi secondi nella risposta, un cliente, come si dice nel nostro gergo, scrolla il telefono, magari allo smartphone davanti, e passa a un tuo competitor. Quindi, essere veloci, esaustivi e ovviamente cortesi e cordiali è il nostro diktat. Questo ovviamente comporta tanto tempo da dedicare ai social, però alla fine noi siamo un team di lavoro di tre persone, riusciamo a dividere questo lavoro fra noi tre e rispondere in maniera veloce ed esaustiva a tutti quanti. Quindi, tempo da dedicare ai social, tanto, ma alla fine è molto, molto, molto gratificante. Come avete visto, è un lavoro dentro al lavoro. Ovviamente ci sono eventualmente dei professionisti che possono aiutarvi e quindi non è detto che dovete fare, che dobbiate fare tutto da soli. Poi, dipende da quanto volete essere presenti su internet, da quanto volete essere efficaci e ovviamente, essendo magari molti di voi piccole imprese, spesso a conduzione familiare, anche il budget è davvero importante e bisogna capire quanto si può spendere e quanto si può dare a un professionista e quanto possiamo fare in casa, magari anche seguendo dei corsi su YouTube, ce n'è tantissime di persone che spiegano le cose o anche seguire la nostra trasmissione televisiva. Ma qui la domanda sorge spontanea, ma i testi? Perché abbiamo i video, abbiamo le immagini, abbiamo le foto, ma sui social network e anche sul sito web è importantissimo avere dei testi scritti bene. Quindi io ho qui ospite con me, ce l'abbiamo in collegamento audio. Bruna Picchi, si occupa di fare la copywriter e altre cose nel mondo digitale. Perché sono importanti i testi ben fatti e soprattutto ragionati in questo caso per i siti web e per internet in generale? Ciao Gabriele, i testi sono forme di comunicazione e la comunicazione, lo sappiamo, è essenziale in ogni contesto in cui viviamo, tra amici, in famiglia, tra colleghi e ovviamente anche tra clienti e la comunicazione ha un obiettivo, veicola un messaggio in modo chiaro e preferibilmente inequivocabile. Farlo sembra semplice ma non lo è e nel contesto digitale è anche più complicato perché per lo più si comunica in forma scritta e quindi non siamo supportati né dalla voce né dalla gestualità. Quindi il pericolo di generare malintesi è concreto. Quando poi parliamo di internet e di siti web nello specifico i testi vanno pensati ad hoc perché nel contesto digitale gli obiettivi di comunicazione sono più ambiziosi, quindi più complessi. Se i testi devono esprimere valori aziendali, identità professionale, qualità dei servizi e così via. Comunicano delle idee ad un pubblico che in linea di principio dovrebbe essere propenso a fare un certo tipo di scelta, affidarsi a un professionista, abbonarsi ad una rivista e così via. Non è pura espressione, è un'opera di coinvolgimento. Le idee vanno definite ma vanno anche inquadrate in una cornice che deve essere attraente. Cioè bisogna fare storytelling, richiamare sensazioni, suggestioni, visioni. Quindi un'attività che va gestita da professionisti perché altrimenti il rischio è quello di fare un buco nell'acqua, cioè di esprimersi ma non entrare in contatto con il pubblico. Ecco, davvero informazioni utilissime da sapere, ma è qui abbiamo parlato di siti web con Paolo, insomma lui ha un e-commerce, sta su internet, ma oggi serve ancora un sito web per l'attività o magari basta stare solo sui social network che in teoria sono gratis l'iscrizione, ma poi se vogliamo farli rendere tra il lavoro che dobbiamo metterci e eventualmente la pubblicità che dobbiamo comprare, insomma dire al giorno d'oggi che sono gratis, è un po' errato. Ma insomma un sito web serve ancora? Sito web e social network sono canali differenti. Entrambi sono utili per chi desidera promuoversi online e uno non escludo gli altri. In base alla mia esperienza la convinzione che si possa avere solo sito web e non pagine social oppure viceversa è frutto di scarsa conoscenza degli strumenti digitali in generale, perché una conoscenza più approfondita dice che ogni strumento ha le sue peculiarità, funziona quindi in un certo modo e serve al raggiungimento di specifici obiettivi. Il sito web è un biglietto da visita per tutti, un biglietto da visita in versione estesa, quindi tale da permettere a tutti di percorrere, cioè tutti gli utenti, di percorrere un insieme di strade, la via verso la pagina contattami, la via verso la pagina chi sono e così via. L'organizzazione dei contenuti, la loro struttura e anche estensione è qualcosa che si valuta con i professionisti digitali rispetto al proprio tipo di attività e ai propri obiettivi. Quindi i siti web non sono tutti uguali, perché non tutti gli ambiti di business sono uguali, però tutti indistintamente rappresentano quel punto di contatto tra aziende e professionisti e un pubblico che perlopiù naviga ed effettua ricerche sui motori di ricerca. Detto in altri termini, quando si sceglie di avere una pagina Facebook, per fare un esempio, e si preferisce di non creare il proprio sito web, si sa però scegliendo esplicitamente di escludere una parte di pubblico dalla propria rete. Quel pubblico che magari non utilizza Facebook, però normalmente è presente su Google perché naviga, fa ricerche. A quel punto bisognerebbe chiederselo, ma il gioco vale veramente la candela? E ancora informazioni utilissime per iniziare, magari se non l'avete ancora fatto, ad avere un sito web o a stare sui social network in base a quello che potete decidere in base alla vostra attività, alla tipologia di cose che vendete o di servizi che offrite. Ma quindi a questo punto magari diamo due consigli imperdibili per la presenza online di un'attività generica, insomma. Vai, un paio di consigli. Per una presenza online che generi relazioni in un qualche modo proficue, credo che prima di tutto bisogna partire dalla conoscenza, cioè da come funziona il web. Immagino una piramide e alla base di questa piramide c'è la consapevolezza su come funzionano i canali digitali e sugli obiettivi che potenzialmente possiamo raggiungere utilizzandoli. Al di sopra di questo primo tassello c'è il secondo che è altrettanto importante, è la strategia, cioè la visione d'insieme. Banale, ma non lo è, perché quando decidiamo di essere presenti online ci rendiamo protagonisti di una storia scritta, ma da noi. Sarebbe bene sapere da subito quale deve essere l'intreccio e soprattutto quale deve essere l'epilogo. L'intreccio si costruisce scegliendo quegli strumenti che pensiamo ci possono condurre all'epilogo che abbiamo immaginato. Ovviamente garanze assolute non ne abbiamo, perché la strategia è perfettibile, non è perfetta. Si perfeziona, va ottimizzata. Però partire in quarta senza la visione d'insieme è più rischioso, fa perdere tempo e anche budget. Quindi in sintesi bisogna avere le idee molto chiare su quello che si vuole ottenere, quale immagine si vuole dare della propria realtà come azienda, come professionista. Da qui poi discende una strategia di comunicazione che va integrando tutti gli strumenti che riteniamo più utili alla nostra causa. Ecco qui, era la nostra ospite che vi ha spiegato i testi, il perché eccetera di internet e spero che questa puntata vi sia utile perché ragazzi non si possiamo fermare. Quindi vi ricordiamo fwgtech.it, troverete tutto l'archivio delle nostre puntate, sono davvero tantissime, 150 e più e quindi io vi lascio ai programmi dopo di noi. Non cambiate canale, io sono Gabriele Gobbo, questo era FWG Tech. Siamo qui una volta a settimana per spiegarvi la tecnologia in maniera semplice. FWG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network.